Il posticipo porta male alla propatria, ormai è un dato di fatto, in più questa volta sono da considerare anche alcune discutibili decisioni arbitrali. Dopo 60 secondi è la Provercelli a mettere il turbo, Marconi scavalca la difesa bianco-blu, Santoni tutto solo appoggia tra le braccia di Anania. Tredicesimo, Som rientra da destra, bolide di sinistro, Dan non trattiene, ripamette dentro, ma in fuorigioco. Tredicesimo, i padroni di casa ci provano su calcio piazzato, punizione angolata di Morante, Anania si distende e devia in corner. La partita è piacevole, con continui cambi di fronte, trentaduesimo, Sarno cerca la rasoiata di sinistro, ancora imperfetta la respinta di Dan, Giastino non riesce a correggere in rete. Qualche secondo e Sarno serve un assist al bacio per Ripa, piattone destro vincente che azzitisce il Silvio Piola. Scatenato il fantasista Tigroto al trentasettesimo, dopo l'ennesima magia, cerca la gioia personale, portiere difesa vercellese, liberano con affanno. L'ultima occasione della prima frazione è Bustocca, tiro al volo di Bruccini, Dan vola senza rischiare la presa. Al quarto d'ora della ripresa, la Briola di testa tocca per Bonomi, toccato leggermente da Polverini, rigore ed espulsione. Dal dischetto, il capitano dei Piemontesi non sbaglia e pareggia. Il match si scalda, al diciannovesimo Cristiano fuori tempo entra duro su Marconi, per il direttore di gara è rosso diretto. Difficile resistere in nove e al ventiseiesimo la formazione di Braghin passa, cross di Santoni, testa di Marconi e 2 a 1. Dopo un bel colpo di tacco di Bonomi, Orlando falisce il trist al trentattesimo. Ultimo episodio, Anania si spinge in attacco per cecare il pari della disperazione, la Pro Vercelli riparte in contropiede. Il numero uno bianco-blu ferma l'azione con un fallo da dietro, ecco il terzo cartellino. Ingenuità, sì, ma poco buonsenso e equilibrio di giudizio da parte di Fabri di Ravenna. La Pro perde così il volo verso la vetta solitaria.